E niente ragazzi, allora De Vrai e Vesino, ennesimi positivi al covid, quindi come stanno De Vrai e Vesino? Stanno in terapia intensiva? Sono in fin di vita? No, non hanno nulla e se non ci fosse stato il tampone non avrebbero mai saputo di essere malati. Quindi Inter Sassuolo è stata rimandata, posticipata, annullata, chiamate, usate il termine a voi più appropriato. Ragazzi, a me mi brucia perché ho proprio voglia di vedere l'Inter, ho proprio voglia di, cioè, una domenica, anzi due domeniche senza Inter, è troppo, è troppo. Però va bene così perché si parla di altri tamponati, di altri positivi e quindi magari tutta gente che non andrà a fare la posa nazionale e quindi rimarrà ad appiano gentile o rimarrà a casa, domiciliato, a fare magari allenamento individuale. E quindi, dal punto di vista, cioè, egoisticamente parlando, avremo dei giocatori che tutto sommato si riposeranno, mentre i giocatori delle altre squadre andranno a farsi un bucio di culo per le proprie nazionali. Quindi va bene così. Sì, mi dispiace umanamente perché era arrivato il tempo, il momento di Yonot Radu, a cui tutti noi tifosi dell'Inter c'eravamo stretti intorno, era già diventato il nostro beniamino, la nostra mascotte. Per il resto, ragazzi, amen, non ci resta che gufare stasera a Milan e sabato e domenica lo stesso Milan e Juventus. Quindi sarà un weekend all'insegna del gufaggio, ok? E per il resto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e sempre e solo Forza Inter. Ciao ragazzi, vi ricordo, Inter sassuolo rinviata. Inter sassuolo rinviata. Io l'avrei voluta giocare, ma un cervello intelligente direbbe, ci sono le nazionali, ci sono meglio rinviarla, così saltano anche le nazionali, però è comunque una partita da recuperare e quindi le partite che non giochi adesso poi le vai a spremere, le vai a concentrare in un determinato periodo, quindi quello che guadagni adesso lo potresti perdere più avanti. Per il resto, ragazzi, magari ce la fanno recuperare ultima o penultima di campionato, quindi non chiuderemo il campionato con l'Atalanta, ma lo chiuderemo con il Sassuolo, quindi sarebbe una partita più abbordabile. Cioè, sto cercando di dare un senso, un qualcosa un po' più di... Per il resto, aspettiamo ennesimi positivi. Allora, ricordo ad oggi D'Ambrosio, il primo di tutti, Andanovic, De Vrij e Vesino, gli ultimi due appena uscita la notizia, e si parla Vox Populi o Internos, meglio dire così, che ci siano altri e anche nomi pesantucci tra i positivi. Lo scopriremo solo vivendo, come diceva Lucio Battisti. Iscrivetevi, attivate la campanella, pollice su e vi aspetto venerdì, vi aspettiamo venerdì su Nono Cugini. Ciao ragazzi!